Mi chiamo Giuseppe Altieri, medico chirurgo, specialista in diabetologia e malattie metaboliche. Mi sono laureato alla Federico Secondo in medicina e chirurgia a Napoli e mi sono specializzato sempre alla Federico Secondo in diabetologia e malattie del metabolismo. Attualmente sono responsabile di un centro di diabetologia privato autorizzato e sono anche responsabile della Saep per quanto riguarda i menù di tutte le carceri italiane del Ministero di Grazia e Giustizia. Nell'ambito della Geomedical mi interessa sia della diabetologia sia della dietologia che conviene sia l'obesità che le magrezze. Grazie a tutti.